Si ferma la spinta rialzista di Bitcoin dopo circa una decina di giorni dall'inizio di questo nuovo, ormai quasi diciamo certo, ciclo mensile che però ancora non ha dato grandi segnali di ripresa perché in realtà Bitcoin è sempre fermo all'interno di un triangolo dove quello che appunto vi avevo mostrato già la scorsa settimana Sembrava alla fine della settimana scorsa che potesse avere velleità maggiori a livello rialzista ma nulla, di fatto si è fermato sul livello di resistenza che avevamo indicato nel video precedente, intorno ai 60.000$, livello esteso perché il primo era in zona 58,5 Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un aggiornamento di quello che è l'analisi ciclica, l'analisi tecnica di Bitcoin e del mercato delle cripto per questa settimana, inizio della settimana attuale nel Bitcoin Monday Come abbiamo fatto la scorsa settimana, faremo un po', seguiremo questi vari punti in questi video del lunedì La prima cosa, il calendario economico con le news di aggiornamento e poi successivamente faremo il punto della situazione con i livelli come abbiamo fatto la scorsa settimana E visto che vi è piaciuto ragazzi, mi avete anche scritto in diversi commenti che era una cosa positiva, quindi andremo a ragionare sui livelli anche di Bitcoin a livello settimanale circa e le oscillazioni Ma ovviamente prima di tutto questo faremo anche l'analisi ciclica, l'aggiornamento della questione ciclica di Bitcoin Bene ragazzi, allora andrei direttamente a quelli che sono i dati del calendario economico perché nella giornata di mercoledì, ore 20 per quanto riguarda l'Italia, se siete in Italia Decisione FONC sul tasso di interesse per la Federal Reserve che probabilmente sarà un tasso di interesse che dovrebbe essere ridotto di 1,025 Quindi un quarto di punti base Attenzione però a questo dato perché proprio nella weekend la probabilità di una riduzione da parte della Federal Reserve di tasso di interesse maggiori di 1,025 Si è spostata al 61% quindi c'è stato proprio uno switch tra quello che era le previsioni precedenti e quello che è l'attuale previsione che era Effettivamente si sono invertite, prima qui avevamo un 30% e qui un 60-70 e ora viceversa 60-40 Allora in sostanza cosa succede? Molti si attendono un taglio dei tassi maggiore, quindi più prolungato per quanto riguarda la Federal Reserve Proprio nel primo FONC del mercoledì prossimo Vedremo se sarà così I mercati stanno scontando questa cosa, sì, alcuni altri no Cioè Nasdaq ha ripreso tanto, Bitcoin ancora estremamente incerto in questa fase Che come vedete è un sali e scendi senza nulla di fatto Con un laterale ribassista che continua ostinatamente dai massimi di marzo del 2024 E che sostanzialmente ha ridotto l'entità dai massimi in pratica agli attuali prezzi del 21% Quindi sembrerebbe un ribasso consistente ma in realtà al momento non è così Cioè è un laterale ribassista, ribassi del 20% su Bitcoin sono accettabili Soprattutto dopo i rialzi imponenti che erano avvenuti nei mesi scorsi e anche l'anno scorso Perciò è tutto nella normalità Chiaro che se decade questo livello di resisti di supporto a 53.000 dollari Soprattutto in chiusura daily diventerebbe molto complesso E soprattutto tra un po' questo triangolo dovrà essere breccato Quindi la probabilità a livello ciclico è sempre quella che Bitcoin faccia un breakout rialzista Lo vedremo comunque tra pochi minuti Non ci sono altri dati secondo me rilevanti per quanto riguarda questa settimana Se non sempre nella giornata di mercoledì il tasso di inflazione europeo Che dovrebbe essere attesa in linea al 2% circa Che poi è anche il target della Banca Centrale Europea E quindi in pratica sarebbe per la prima volta insomma un target accettabile Per la Banca Centrale Europea Poi ci sono le richieste di disoccupazione ma comunque niente di rilevante Passiamo a quello che è l'analisi tecnica ciclica di Bitcoin Intanto volevo farvi vedere ancora una volta la discrepanza con l'eterno indeciso Che in questo caso è ETH di cui non parliamo da un po' Perché ancora è in una fase particolare contro Bitcoin Cioè non ha ancora invertito trend contro Bitcoin Quindi in sostanza è una coin che ha un po' poco da dire Fintanto che non inverte il trend contro Bitcoin Perché è sempre meglio avere Bitcoin rispetto a ETH Se si fa questo ragionamento Ovviamente a titolo di natura investimenti e spocurazioni Non per altre cose E perché sicuramente più liquido Bitcoin ha un'oscillazione minore Quindi minore di volatilità, meno rischioso E se la altcoin in questione come TH guadagna di meno rispetto a Bitcoin E perde di più Non ha senso insomma ovviamente puntare su questa È un po' la sofferenza che sta avendo Ma io credo che questo dato sarà alle gambe corte Perché se dovremmo assistere poi a un cambio di passo anche delle altcoin Ethereum sarà la prima a dimostrarlo Ovviamente non cambia nulla per noi perché tanto quando invertirà il trend Lo andremo poi a tenere sotto controllo E questo è il trend sempre Ethereum Bitcoin Come vedete insomma in perenne fase di declino Ormai dai massimi del dicembre 2021 Non ha più recuperato un trend rialzista Se non comunque è in una fase anche questa laterale È un po' difficile da dire di un ribasso non eccessivamente importante Per gli ordini delle criptovalute Meno 55% dei massimi del 2021 di forza relativa Quindi chi ha detenuto Bitcoin rispetto ad ETH dal 2021 E' in profit rispetto a ovviamente l'andamento di Ethereum Non quello del dollaro Del 55-56% Quindi è migliorativa questa cosa E come vedete ancora Questa struttura di ribasso non si è fermata C'è da dire che a livello ciclico siamo alla scadenza di questa struttura ciclica Che è un ciclo biannuale su Ethereum contro Bitcoin Ribassista quindi vincolato al ribasso Che può invertire solo e unicamente Quando sarà chiuso Quindi fino alla chiusura di questo biannuale Che teoricamente è portato verso i primi di novembre Quindi fra un mesetto e qualcosa Non c'è modo di avere questa inversione E questa cosa ragazzi io ve la dico Veramente ormai da più di un anno E a dire la verità la prima volta di cui ho parlato di questa questione Era se non erro La Blockchain Week Rome del 2022 Ragazzi è giusto per dire questa cosa E da lì non è mai cambiato nulla Ho fatto anche una serie di space tempo fa Dove mi sono preso un po' le ire no? Degli amanti di Ethereum Che comunque non c'entra nulla l'andamento Dei prezzi di un adcoin con la sua tecnologia O il suo modello di sviluppo E poi questo è comunque un andamento Che può essere reversato in pochissimo tempo Quindi ancora una volta È solo una questione di chiusura Di questa struttura ciclica Poi potremmo andare ad analizzare la questione Quando la struttura ciclica sarà chiusa Ma al momento fino alla chiusura Di questo biannuale ciclico Non c'è storia per ETH E infatti è così Che sta avvenendo ancora in questo caso Allora andiamo a vedere la questione invece Di ciclica di Bitcoin Che aveva performato bene nell'inizio di questo ciclo mensile Facendoci anche ben sperare Che potesse essere confermato poi l'inizio di un nuovo annuale Perché ricordiamo che il 5 di agosto È avvenuto comunque un minimo importante Ma poi è stato reiterato questo minimo in chiusura Il 6 di settembre Con una specie di doppio minimo in chiusura Non sul lasciato Quindi sulla chiusura che è intorno ai 54 mila dollari circa E da lì è partito un nuovo ciclo Quindi se questo ciclo mensile È parte del nuovo annuale Ovviamente deve rompere questo massimo Ma se non è così Attenzione perché? Perché questo ciclo mensile È solo destinato a scendere Quindi o è il primo del nuovo annuale O il secondo Se qui si consultano diciamo questo minimo Alcuni lo considerano Altri no Dipende dalla vostra tecnica dell'analisi ciclica Ma non cambia Perché anche se è il secondo Comunque deve spingere Se non spinge ragazzi E non supera almeno questo breakout Almeno si avvicina a questo massimo È pericolosissimo Perché in sostanza può andare a fare un nuovo minimo E chiudere i giochi proprio i primi di ottobre Creando una struttura mensile fatta così Io non sono del tutto convinto Di questa struttura ribassista Se non che i miei sistemi sono usciti Anche proprio nella giornata di oggi In leggero stop Perché non è una situazione estremamente chiara E non è neanche molto tranquilla Quindi a quel punto Quando le cose cambiano Meglio assumersi Una leggera perdita Nell'ordine di un punto e nove percentuale Ragazzi è giusto di questo Stiamo parlando Quindi piuttosto che andare poi contro trend E beccarsi un meno 15 Meno 20 Che non è mai buona cosa E vediamo insomma se sarà così Ovviamente sono strategie Quanti Di analisi quantitativa E quindi ovviamente hanno tutti i livelli Già predefiniti in partenza Io però ancora a livello personale Non sono convinto Nonostante segua alla lettera i miei sistemi Come deve fare un buon trader E un buon investitore Però non sono convinto Perché secondo me Questo mensile Poteva essere anche quello buono Per vedere un po' la luce Vediamo un po' se sarà così Perché se le questioni si mettono male Anche su questo mensile A me vengono una serie di dubbi Proprio sulla tenuta Dell'intero movimento E quindi insomma Ne parleremo poi nei prossimi video Perché volevo appunto Rendervi partecipi Sicuramente lo farò Qualora questa struttura Non reggerà in sostanza Ragazzi Qualora questo livello Tecnico Venga breccato Al ribasso Solo in quel caso Ne parliamo Però Prima non ha molto senso Allora La struttura in questione È una chiusura di un ciclo Che si chiama B settimanale In questo momento Sono dieci giorni circa Quindi può essere Un dieci giorni O continuare Fino a quindici Per gli amanti del trading Quello veloce Ragazzi Di pochi giorni Non ne parliamo Comunque sul canale Sapete che a me non piace Fare video di quel tipo Anche perché Durano veramente pochi minuti Non ha senso Su youtube Ha più senso farli magari In academy da noi Dove abbiamo Un'operatività Leggermente più accentuate Anche i sistemi Anche Le conoscenze Per fare queste cose Allora Qui in ogni caso Siamo a dieci giorni Dell'inizio del mensile Quindi Teoricamente Se questo è un mensile Rialzista Deve rompere Questi massimi Qui E a questo punto Abbiamo un livello Di resistenza Che è Importantissimo Cioè Dobbiamo andare Sopra I 61 mila dollari Se non va Sopra i 61 mila dollari Bitcoin Allora Questo mensile Ha un grande rischio Quello di trasformarsi In un mensile Ribassista Che si vincolerà A ribasto Andando a rompere Questo livello Di pricing Proprio qui Lo vedremo anche Nei livelli Di questa settimana Io però Sono ancora Dell'idea Che Il mensile In questione Possa tentare Una strada Di questo tipo Ripeto È Una mia idea Opinione Che non è Un dato oggettivo Dato su altre cose Ma è una mia idea Che ovviamente Io non seguo Ragazzi Vi sto dicendo questa cosa Perché io seguo Delle strategie Pianificate Che sono Ovviamente State create Attraverso Un'analisi Di dati statistici E tutto quelle Che sono poi Le mie analisi Ovviamente Stesse E quindi Siccome quel segnale Mi ha dato Un segnale negativo Io non Sono in questo momento Su una Una parte long Del mercato Se mi darà Un segnale positivo Lo riseguirò Tutto qui E questo è ovvio Faccio così Tutto pubblicato Ovviamente Nell'academy Anche in questo caso Però Un po' Qui vi dico Anche la mia Opinione Anche io Starò ovviamente In allerta Perché a me Da sempre L'impressione Che questo ciclo Possa fare La differenza Vediamo Se è così Se non è così Amen Perché lo scopriremo Praticamente Entro brevissimo Cioè Entro i prossimi Due tre giorni Assisteremo A una cosa del genere È un ritorno Di bitcoin Senza dubbio Almeno Intorno ai 56 mila dollari Circa E da lì Un rimbalzino Che potrebbe essere In effetti Quello del gatto morto Fino ai 59-60 Questa zona qui Per poi andare a chiudere Il mensile Quindi trasformarsi Probabilmente Un bagno di sangue Leggero Diciamo così A chiusura Però anche Di tante cose Che secondo me Può essere Interessante A livello proprio Di ciclicità Dell'annuale Quindi Questa La questione Attuale Ed è così Che siamo messi Andiamo a vedere Invece Per gli aggiornamenti Di queste Settimane I nuovi aggiornamenti Di analisi tecnica Per quanto riguarda I livelli Della settimana Lo scorsa settimana Avevamo Livelli di supporto E di resistenza Che sono stati Poi breccati Quindi la decisione Del mercato È stato quello Di andare A rialzo Qui veramente Abbiamo un macello Guardate che cosa C'è di supporti C'è praticamente C'è una super Congestione In area 60.000 dollari Questa è una Area di congestione Con un solo Livello di supporto Che è la zona 54.000 dollari In chiusura Della settimana Le shadow Non contano E soprattutto In shadow Se dovessimo andare A ragionare I 53.500 dollari Quindi questa fase Qui È una candela Che potrebbe essere Ancora una volta Purtroppo Un inside Cioè andare A ricoprire L'intera candela verde Precedente Attenzione Perché come vedete Anche in questo contesto Per avere Velle Italia Alzista E quindi Rispostarci Sul lato alto Di questa Canale Di questa Barra di congestione Dobbiamo prima Superare lo scoglio Dei 61.000 dollari Se verrà superato Sarà anche Una view Ciclica Secondo me Importante Che potrebbe Darci il là Per ritornare All'altro livello Successivo Poi Di resistenza Di cui magari Parleremo Nelle prossime Nei prossimi video Che sarà Comunque Questo qui Intorno ai 69 Qui Alla fine Si evince Nel grafico Di natura settimanale Che è quello più lungo E il migliore Per fare investimenti Di lungo periodo Si evince In maniera chiara Che in realtà Qui è solo Un laterale Di bassista Tant'è vero Che se andiamo A vedere Anche il dato In chiusura È ancora più evidente Questa cosa È molto simile Questo andamento A quello Che era qui Per esempio È anche vero Che alcuni dicono È simile anche Ai cicli di distribuzione Cioè Questo qui Sarebbe simile A questo In realtà Questo è molto più intenso E ha molto più Un trend Al ribasso Rispetto A questo qui Che in realtà Non ha nulla È solo Un grande casino Scusatemi Il termine Di alti e bassi Varie liquidazioni E affini Ma non è Che abbia Un trend Vero e proprio Tra le altre cose Ancora Di sopra Del livello Della media A 12 Questa qui È la media A 52 settimane Che è la media Che uso Per i cicli Annuali Nulla pieta Appunto Che qui Il mercato Possa ritornare Sui suoi passi Anche a livello Rialzista È il motivo Per il quale Io più volte Vi sto dicendo Che sono Un po' Titubbante Sulla Continuazione Di questo movimento Ribassista Forse Magari a livello ciclico Può starci Ancora Fino alla prima decada Di ottobre Ma Comunque abbiamo I giorni contati Quindi Un po' Il dubbio Mi rimane Se continuerà Infatti Dopo Già Quei livelli Sarà Secondo me Estremamente Più Pericoloso Quindi Livelli Per la settimana 61.000 dollari Senza ombra Di dubbio 60.561 Come aria E al ribasso 54.500 dollari Va bene ragazzi Allora per oggi È tutto Io sono fuori Sarò fuori Fino a ottobre Quindi Ci rivedremo Un po' Così E soprattutto Non sono sicuro Di riuscire Ad aggiornarvi Anche Con i soliti Tre video Settimanali Vedremo Un po' Il da farsi Se riuscirò Volentieri Ragazzi Altrimenti Abbiate pazienza Ne usciranno Un po' Di meno Anche per questi Giorni Ciao a tutti Alla prossima